Questo progetto Interreg che vede insieme la Puglia, il Molise, il Montenegro e l'Albania è un progetto a cui la Puglia Film Commission tiene particolarmente. Siamo stati uno degli elementi propulsivi su questa vicenda perché la collaborazione che abbiamo da tempo con queste due nazioni fa un salto di qualità e realizza delle cose concrete. Realizzeremo questi nove cortometraggi fatti a cavallo fra queste tre nazioni che racconteranno attraverso il viaggio dei territori così diversi ma metteranno insieme delle competenze diverse. saranno indirizzati a giovani filmmaker, sarà un modo per mettere insieme le idee e i modi di raccontare dei giovani generazioni di tre paesi molto diversi. Un altro obiettivo fondamentale, bellissimo per chi ama il cinema come noi è quello di riaprire due sale in Albania che sono chiuse da 28 anni e riaprirle con le tecnologie più moderne e più efficaci. Questo vuol dire che realizziamo dei film ma creiamo le condizioni per poter vedere il cinema. Senza le due cose il cinema non ha senso. Che questo progetto tenga insieme questi due aspetti e che serva a esportare alcune delle pratiche che noi abbiamo in Puglia, in Molise verso Albania e Montenegro che hanno una diversa struttura organizzativa è un motivo di orgoglio ma ancora una volta di grande e fattiva collaborazione. Grazie a tutti